Ragazzi sono qui perché è un video dovuto a voi e a voi tutti in base al lavoro che sto facendo da moltissimo tempo in più vi lascerò oggi un'altra testimonianza di una persona, una donna, che ha voluto partecipare a questo video lei pratica karate a livello sportivo agonistico e ha voluto lasciare a voi questa mia testimonianza del lavoro che sto facendo e anche un giudizio, il giudizio spezzerà poi lei darlo, io lascio la redini al comando Prego signorina Jessica, venga Ciao a tutti, allora io vi dico che questo percorso è iniziato poco tempo fa, quindi neanche tanto in autonomia, nel senso che ho voluto io intraprendere questo percorso e non posso che essere più che soddisfatta Grazie Momentaneamente Beh certo Del lavoro svolto, quindi assolutamente approvato, ve lo consiglio Superdoc Super Jessica Super Jessica E miglioramenti ce ne sono sia a livello fisico che a livello proprio come dire Di psiche, di concentrazione, come ti puoi trovare te Esatto Quindi chiunque abbia Qualsiasi tipo di problema Qualsiasi cosa Qualsiasi cosa Sa che Esatto Il doc è a disposizione Io faccio il 50% del lavoro Ma l'altro 50% dovete mettervelo voi Assolutamente L'ho preso da una frase di un film di Jackie Chan Che però non era proprio così Lo smoking, non so se l'hai visto Mai visto Bene ragazzi Questa è un'altra testimonianza Ci ho tenuto a farvela Cliccate, iscrivetevi su Dr. Besca Vi trovate anche sul mio dottore Che consiglio Chiunque volesse Spulciarlo Per prendere appuntamenti Vedere chi sono Di andare da lì Da me è Jessica Questo è tutto Ci vediamo Alla prossima Lini allo studio Ciao Ciao